Si chiama Italia Camp ed è un'associazione di giovani di età compresa tra 25 e 35 anni. Un network di 70 università italiane, istituzioni e imprese del paese per promuovere innovazione sociale e produttiva attraverso il collegamento diretto e fattivo tra chi ha una buona idea sociale o imprenditoriale e quanti hanno il potere economico, culturale o politico per realizzarla. La Puglia, sede di una delle 20 realtà nazionali, si è sempre distinta tra le altre mettendo a segno negli anni passati, l'associazione attiva dal 2007, una serie di progetti che hanno trovato pratica e fruttuosa applicazione. Di Italia Camp, che ora sta per sbarcare negli Stati Uniti d'America, si è parlato in un incontro presso la sede Tarantina dell'Università. Ascoltiamo Antonio Scalcione, coordinatore pugliese di Italia Camp. Un sacco di idee, un sacco di progetti, un sacco di speranze in questo territorio che prossimamente sarà interessato da forti cambiamenti in termini di riqualificazione imprenditoriale e di riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro. Qualche esempio di idee? La più nota è sicuramente quella della SRL ad un euro, quella che ha portato l'anno scorso il governo in carica ad adottare una delle idee presentate durante i nostri eventi, che permette oggi nel Codice Civile, con una modifica del Codice Civile, la costituzione di una SRL con il costo di un solo euro.